bentornati sul canale mi ha aperto questo blog io sono il gonz e oggi sono qua per raccontarvi che purtroppo per me ho una nuova collezione ho iniziato una nuova collezione e come sanno i collezionisti questo è qualcosa di drammatico in realtà perché sono comunque soldi che escono e insomma ti viene anche un po questo trip di cercare cose è bello è bello ma è anche frustrante a volte allora vi faccio vedere di che cosa mi sono appassionato ti riesco a ricordarmi dove li ho presi comincio da questo perché l'ho comprato su amazon o cazzo stava per uscire sto parlando di carpenter antolo john carpenter antologi la nuova collezione che ha iniziato è di vinili i più giovani diranno ma che cazzo fai gonz adesso c'è spettify e poi c'è anche quell'altro e poi io io c'ho il giradischi c'ho l'impianto stereo ascolto i dischi ogni tanto adesso li ascolto ancora di più e ho deciso di comprare qualche disco di colonne sonore questo qua è fantastico ragazzi tra l'altro quando lo vedevo nello store di amazon pensavo che questa scritta fosse stampata in realtà è ritagliata come potete vedere ed è bellissima è bellissima dietro c'è il buon john è veramente un figo incredibile veramente un figo vediamo se questo non li devo far cadere ragazzi perché se si rompono un bestimio ci sono un po di foto sul set come potete vedere nella busta interna questo poi c'è il disco ragazzi ma cosa c'è di più bello di un vinile allora il mio piano è anche imparare magari a farle suonare con due piatti chissà se ci riuscirò mai così da fare qualche seratina con gli amici dove metto su le canzoni insomma le musiche dei dischi dei film e insieme si si ricordano le scene insomma una roba un po da cinefili da amanti del cinema da amanti della musica ora vi faccio vedere invece quelli che sono un po le chic che sono riuscito a trovare questi sono dei dischi che ho comprato su discogs che è una piattaforma di compravendita dischi usati internazionale devo dire che mi sono trovato bene primo acquisto mi sono arrivati i dischi in ottime condizioni quello che mi ha attratto è stato tenebre perché ha un pezzo clamoroso che si chiama tenebre è veramente troppo bello e solo per quello lì ho voluto il disco l'ho pagato sapete che non mi ricordo esattamente tipo se tipo pochi euro sapete non mi ricordo comunque mi ricordo che gli altri due dischi che sono senza copertina se vi faccio vedere questo è dietro perché non riesco mai inquadrare giusto c'è pure dell'argento cosa volete di più dalla vita ma l'avrò pagato tipo 77 euro ecco quello che mi è costato di più è la spedizione che costava tipo 9 euro o qualcosa del genere allora io per ammortizzare la spedizione mi sono comprato anche due dischi senza copertina perché senza copertina costano molto molto meno perché si sbalutano tantissimo però io li volevo per farle suonare così uno è inferno quindi dal film inferno vi posso far vedere meglio giusto questa parte qua e l'altro è la colonna sonora dell'esorcista che ha questa strana non so se se sono io non ricordo che riferimento possa avere questa strada con gli alberi oppure non c'entra un cazzo qualcuno saprà cosa significa sicuramente comunque questo è veramente un trip malatissimo cioè te lo metti su e vai a male vai proprio a male c'è probabilmente diventi ti entra il demonio dentro ascoltato veramente una roba da disturbati mentali e ti rendi conto quanto comunque la musica influisce tanto nel coinvolgimento del film questi due li ho pagati un paio di euro l'uno quindi ragazzi veramente se uno vuol suonarli e non è interessato proprio ad avere la copertina sono degli ottimi acquisti poi chiaramente magari troverò sarò super fortunato troverò solo la copertina pagandola pochissimo quello sarebbe il top poi invece per mercatini in due mercatini diversi anzi no uno in un negozio dell'usato a nelle marche insomma ero nelle marche così non facciamo torto a nessuno era nelle marche in un negozio dell'usato ho trovato questo disco qua che è la colonna sonora dei gremlins questo è stupendo l'ho pagato che l'ho preso insieme a due film no 4 l'ho preso insieme a 4 film alla fine mi ha fatto uno sconto anche di 2 euro grandissimo lo ringrazio lo saluto anche se non mi ricordo come anzi non credo di aver mai saputo come si chiama il gestore del negozio alla fine mi è costato 4 euro fondamentalmente perché costava poco perché questo apparteneva a una radio e ci sopra un codice scritto pen c'è delle scritte dei timbri qua ci sono dei timbri quindi comunque questo svaluta parecchio io non sono un esperto magari un giorno diventerò di collezioni di dischi però mi sembra aver capito che si scrive sulla copertina poi un po si svaluta comunque poi vabbè è anche leggermente cioè non è non è proprio nuovo ecco qualche segno di usura c'è fa la sua porca figura ragazzi poi ultimo ma non meno importante ecco questo è il colpaccio che ho fatto l'ho comprato in un mercatino dell'usato anche qui ringrazio il venditore che mi ha fatto un ottimo prezzo è stato molto gentile così io non sapevo assolutamente il valore di questo disco ma mi era mi aveva attratto la copertina mi aveva attratto il tema sto parlando dei dischi gialli racconti del terrore scusate ma questo giallo spara tantissimo sono uno due tre tre racconti di edgar alain po il gatto nero il cuore rivelatore le esecue premature interpretate da baldolai ubaldo laia un attore del passato che ha fatto un po di televisione un po di film e ha fatto anche tanta appunto storia alla radio perché una volta prima che insomma ci fosse tutto quello che c'è oggi la gente ascoltava racconti di spionaggio dell'orrore o d'amore non so insomma tutte queste vicende le ascoltava alla radio ubaldo laia tra l'altro è anche nel cast di dell'esercicio non so se c'entra ma lo volevo dire comunque io ho ascoltato un solo racconto con mio figlio e ci siamo divertiti un mondo è veramente una figata galattica è come guardare un film è fatto benissimo io l'ho pagato 5 euro sono andato a guardare quanto costa l'unica copia che si trova in rete attualmente quando ho guardato nelle stesse condizioni più o meno di questo costa circa 50 euro quindi posso tranquillamente dire di aver fatto un bel colpo non lo rivenderò quindi chi se ne frega l'importante che insomma è una figata galattica tra l'altro qua potete vedere all'epoca costava mille lire qua per esempio dietro vedete di questa collana tutti i racconti che hanno pubblicato questi sono tutti gli altri racconti quanto riguarda la nuova collezione di dischi voilà insomma si comincia così si comincia con poco questo è tutto per quanto riguarda questo video che riguardava un po questa nuova passione che ho per le colonne sonore se anche voi fate collezioni genere insomma scrivetemi fatemi sapere cosa ne pensate lasciatemi un commento qua sotto scrivetevi al canale lasciate un like e ci vediamo alla prossima ciao